Una parte di Polifemo dedicata all'orientamento scolastico, in modo particolare all'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede di Taranto. Ci occuperemo nello specifico di un indirizzo del settore tecnico, appunto, trasporti e logistica ex nautico. Siamo qui nella splendida cornice del Molo Sant'Eligio di Taranto, dove appunto un apposito stand, un apposito spazio riservato all'Archimede. In questo spazio si cerca di far comprendere l'importanza di questi indirizzi. Beh, una location fantastica, il legame intenso, forte, che c'è tra la città di Taranto e la marineria. E benvengano gli studi legati al nautico. Mi è cara questa immagine di questa barca. Ecco, sintetizza il rapporto profondo, stretto e intimo, lo ripeto, tra Taranto e il mare. E dobbiamo dire, tra Taranto e l'Archimede, visto questo importantissimo indirizzo sul quale intendiamo soffermarci. E lo faremo ascoltando docenti e studenti. Beh, parleremo, come detto, di nautico e quindi delle prospettive occupazionali che, appunto, questo indirizzo dell'Archimede consente. Ma è dopo iniziare, così, questa puntata confrontandoci con il dirigente scolastico dell'Archimede, la professoressa Patrizia Capobianco, che si è insediata da alcuni mesi. E allora, tanti indirizzi, due settori, tanti indirizzi, prospettive occupazionali. Credo che l'offerta formativa di un territorio debba essere calibrata proprio sui bisogni del territorio e non solo. Bisogna avere un orizzonte ampio, bisogna essere attenti al mondo del lavoro. E in questo momento il problema occupabilità è veramente molto forte e sentito. Dobbiamo calibrare, quindi, i nostri percorsi di studio in prospettiva lavorativa. E questo, l'Archimede, proprio per questo, quest'anno avrà due nuovi indirizzi, come pesca e produzione ittica e gestione delle acque e risanamento ambientale. È tutto legato al mare. Io penso che tutti gli indirizzi scolastici intanto sono interconnessi, perché avere, per esempio, l'indirizzo scolastico come impianti, assistenza tecnica e manutenzione, l'assistenza tecnica e manutenzione non ci allontana di quello che sono le nuove strutture strutturali, impiantistiche, che ci consentano un risanamento ambientale. Quindi, credo che siano fortemente collegate. La risorsa più grande che ha la città di Taranto è il mare. Non possiamo non pensare a una occupabilità e al mare. Quindi, quale istruzione, per quale lavoro? Questa è la domanda che noi dobbiamo porci e alla domanda alla quale noi stiamo dando delle risposte con la nostra scuola. Io ho notato tanta determinazione e tanta maturità negli studenti, nel senso che hanno ben chiaro l'obiettivo da raggiungere. La scelta che si fa, scegliendo o preferendo questo indirizzo ad un altro, dimostra che hanno le idee chiare, nel senso che hanno una prospettiva di quello che sarà la loro occupazione futura. In parole povere, sanno già da ora ciò che vogliono fare da grandi. Beh, intanto sanno quello che vogliono fare da grandi e sanno che in questa scuola, con i percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono già molto vicini al mondo dell'occupazione. Quindi parliamo di concretezza. Però vorrei fare un leggero salto rispetto agli istituti professionali e tecnici. Cioè, non dobbiamo pensare che una tipologia di scuola di questo tipo poi non ci consenta un percorso successivo universitario. Cioè, assolutamente, anzi un percorso specializzato con persone che hanno delle competenze molto ampie. Quindi, intanto, è possibile fare, continuare gli studi, ma nello stesso tempo si ha una possibilità di avere un titolo di studio spendibile, anche nel nostro territorio. Ecco, preside, io amo usare sempre questa terminologia, ora c'è la terminologia dirigente scolastica. Preside, preside. Io vedo che ci sono due indirizzi, ci sono due settori, tanti indirizzi, altre tante opzioni. Io mi sono perso, no? Quasi in questo ginepraio. Immagino che per lei è un compito davvero arduo in mani. Lei è all'altezza, ci mancherebbe, però c'è una gran mole di lavoro, un grande sacrificio, un grande impegno, perché, ripeto, stiamo parlando di una pluralità di settori, di indirizzi. Ma l'impegno nasce anche dal crederci. E noi crediamo che le nuove generazioni possano confermare o, ancora meglio, rendere un futuro migliore per tutti. Per esempio, noi abbiamo alcuni nostri indirizzi che li abbiamo calibrati sull'agenda 2030, sullo sviluppo sostenibile. Cioè, pensiamo alla gestione delle acque e al risanamento ambientale. Temi attualissimi. Sono strettamente collegati a quello. Noi siamo firmatari dell'agenda 2030. Quindi dobbiamo predisporre anche delle figure professionali, ma cambiare delle mentalità che, insomma, il nostro problema ambientale, il nostro problema legato all'inquinamento nasce anche da una scarsa cultura di queste problematiche. Vorrei aggiungere ancora qualcosa, perché vorrei presentare proprio alle famiglie la possibilità che si hanno su alcuni territori, come quello di Talsano, in cui noi abbiamo il Falanto, con informatica elettronica. I nostri ragazzi, adesso molto ben preparati, sono già richiesti da alcune aziende in alcuni percorsi di apprendistato per poi trovare una possibilità immediata di lavoro. Bene, ci congediamo qui dalla professoressa Capobianco. Ora ritorniamo sulla via maestra, quella del mare, scherzo naturalmente, parliamo di, ci soffermiamo appunto su questo indirizzo, quello dei trasporti e logistica e quindi l'ex nautico. Abbiamo colto l'occasione, essendo qui presso l'Archimede per l'Open Day, e abbiamo incontrato il professor Fabio Mancini, con lui vogliamo parlare di formazione dei docenti e non solo. Quest'anno l'Archimede ha implementato l'attuazione del piano di riordino degli istituti professionali attraverso lo svolgimento di una azione formativa che ha riguardato prevalentemente i docenti delle future classi prime e poi estesa a tutto il collegio. I docenti sono stati coinvolti in attività laboratoriali per l'attuazione del riordino che prevede la personalizzazione degli apprendimenti e soprattutto la progettazione di unità di apprendimento che saranno certificate al termine dell'anno per competenze. Inoltre, importante alla luce del decreto legislativo 61 del 2017 e successivamente il decreto ministeriale attuativo il 92 del 22 maggio del 2018, l'elaborazione del progetto formativo individuale che accompagnerà gli alunni nel loro percorso formativo attraverso un orientamento del proprio percorso di vita e anche formativo. E allora andiamo alla scoperta di questo indirizzo, io amo chiamarlo l'indirizzo nautico e siamo con il professor Giovanni Trovato, devo dire un veterano dell'Archimede e del nautico in modo particolare. E allora professore, cerchiamo un po' di illustrare le caratteristiche di questo indirizzo. Sì, allora intanto dobbiamo dire che appunto ancora la dicitura conosciuta a livello, diciamo anche nazionale, è istituto nautico, però da qualche anno a livello ministeriale la dicitura è cambiata in istituto per trasporti e logistica, è un indirizzo tecnico. E in particolare questo indirizzo trasporti e logistica ha quattro opzioni che i ragazzi possono scegliere al terzo anno. Una è conduzione del mezzo navale, una è conduzione degli impianti di bordo, l'altro è costruzione navale e l'altro è logistica pura. Ecco professore, vediamo un po' nel corso degli anni c'è stata una maggiore specializzazione, uno degli studi sempre più, come dire, mirati, specifici, approfonditi. Ecco, illustriamo questa evoluzione. Sì, sicuramente negli ultimi anni la tecnologia è entrata anche a bordo, sia delle barche più piccole da di porto e sia ovviamente delle grandi imbarcazioni, noi conosciamo quelli militari perché qui a Taranto abbiamo l'occhio delle navi militari ma in altre parti ci sono le imbarcazioni, le navi da crociera, però quelle oramai, se qualcuno è andato su una nave, il timone quasi non esiste più perché si sono semplicemente delle cloche elettroniche quindi tutto si organizza, si muove la nave solamente manovrando queste attrezzature elettroniche in poche parole. Ecco, professore, ora soffermiamoci sugli sviluppi occupazionali. È un settore tecnico che proprio in quanto tale rappresenta quasi, come dire, un canale, una corsia privilegiata, preferenziale ai fini appunto di una occupazione in tempi abbastanza celeri, proprio alla luce della specificità di una competenza e dei titoli adeguati, corrispondenti. Sicuramente i ragazzi che escono dal nautico non è detto che debbano semplicemente poter andare, imbarcarsi e quindi andare per mare, ma possono anche svolgere dei lavori a terra con le stesse competenze. Ripeto, noi siamo abituati a, conosciamo la marina, quindi vediamo che non tutti i militari ufficiali o sufficiali vanno per mare, ma ci sono tanti che stanno negli uffici. Oltretutto noi qui a Taranto abbiamo un porto che potrebbe sicuramente, nelle condizioni ottimali, dare possibilità a tanti ragazzi di poter svolgere competenze di logistica. D'altronde una risorsa enorme, come quella del porto, e sarebbe anche una cosa bellissima proprio perché i ragazzi studiano a Taranto e non devono prendere, una volta si diceva la valigia di cartone, oggi c'è il trolley ed emigrare, tentare fortuna altrove, quando invece è giusto che si affermino sul proprio territorio conferendo allo stesso, come dire, un valore aggiunto, una maggiore professionalità. Sì, in effetti le potenzialità su Taranto ci sono per uno sbocco professionale di questi ragazzi, ripeto, non semplicemente imbarcandosi e andando per mare, ma anche tutte le attività di terra, sia anche del turismo nautico, che purtroppo da noi è ancora sottovalutato, però basta guardare un po', non magari in questo periodo, ma in altri periodi nel nord Italia, come il turismo nautico aveva anche bisogno di persone competenti per la conduzione delle imbarcazioni, diciamo anche degli yacht un po' più grandi. Quindi comunque i ragazzi hanno queste competenze, è chiaro che poi c'è anche la passione, qualcuno si avvia più verso altre situazioni, però devo anche ricordare che molti ragazzi dei nostri hanno, quando si propongono per fare i concorsi alla marina militare, sono diciamo i primi, proprio perché hanno... Perché c'è una preparazione e quindi molti... Di altissimo profilo. ...prendono la carriera militare, diciamo con facilità, perché comunque hanno già cinque anni di competenza. Noi ci siamo ripromessi nel corso di questo periodo di orientamento scolastico di intervistare, di ascoltare le esperienze dalla loro viva voce di ex allievi, ex studenti, proprio per far comprendere come la scelta dell'Archimede e di questi indirizzi sia particolarmente vincente ai fini degli sbocchi occupazionali. Ragazzi che sono usciti da tre anni, abbiamo qualcuno che è impiegato sulle imbarcazioni della Grimaldi, qualche altro in qualche capone di porto italiana, qualche altro è imbarcato su navi commerciali di trasporto, quindi c'è una... ovviamente chi aveva la passione è riuscito in questo sbocco. Altri invece sono posizionati, diciamo, i lavori a terra cosiddetti. Ecco, prima di ascoltare il suo collega Taddei, ora vorrei così avventurarmi, non vi spaventate ragazzi, appunto avventurarmi ad ascoltare le esperienze degli studenti. Un atto di coraggio era un po', come dire, restì alle telecamere, ma chi dovrà poi affrontare il mare non potrà certo aver paura delle telecamere. Un primo studente, come ti chiami? Marco Moretti, faccio parte appunto, seguo in direzione nautica, frequento il terzo superiore. Com'è nata questa passione per il mare e per il nautico? È stata trasmessa dal mio nonno. Figlio, nipote d'arte dovremmo dire. Esatto, nipote d'arte perché mio nonno è stato appunto comandante di Nami Mercantile. Le sue storie mi hanno appassionato e mi ha, diciamo, tra virgolette, spento a seguire questo indirezzo. Quindi studi con passione, perché poi il tuo sogno è quello. Sì, sì, non ho difficoltà, poi fortunatamente ho trovato dei professori bravi, eccezionali direi perché capisco tutto e poi, diciamo che, tra virgolette, la metà dello studio la faccio a scuola perché possa stare attenti e si capisce tutto. Si apprende. Esatto. Esatto. E allora passiamo a una ragazza. Come vedete, il nautico non è solo per i maschietti. Come ti chiami? Sono Salpi Alessia e frequento il secondo anno. Allora, la tua esperienza, anzi, le tue considerazioni in materia, cosa vuoi fare da grande? Eh, vorrei riuscire ad entrare nella marina perché... Marina militare, intendo? Sì, nella marina militare, perché mi affascina molto il mondo del mare. Quante sono le ragazze? Siete in... In classe siamo tre e ci sono diverse ragazze nel corso nautico perché, comunque sia, è un lavoro molto... Che ti prende, che vi prende, che vi... E in effetti fa piacere. Noi parliamo tanto, no? Di uguaglianza uomo-donna ed è bello vedere delle ragazze che... Sì, le opportunità lavorative è molto ampie. Perfetto. E allora, sotto a chi tocca, questo col cappello, fa freddo, glielo consentiamo, l'abbiamo consentito anche ai docenti. Beh, vedete, oggi è una giornata, 15 dicembre, le condizioni del natalizia, direi proprio polare, o se ridire, le condizioni climatiche sono quelle che sono, però voi ragazzi dovete essere temperati al freddo perché uomini di mare non possono così trastullarsi, ora è caldo, ora è freddo, bisogna affrontare. Allora, come ti chiami? Mi chiamo De Pane Domenico, frequento il secondo anno insieme alla ragazza. Allora, perché hai fatto questa scelta? Io non ho mai... cioè, non sapevo l'esistenza della marina. Crescendo ho scoperto la marina grazie a mio padre ed è nata una sorta di passione, diciamo, perché a Taranto è un'opportunità, essendo che Taranto è una città fondata sul mare, diciamo, e ispira molto. Il mio sogno è di diventare ovviamente comandante, studio molto con passione. Ti applichi? Mi applico, sì. Beh, vedete, io ho sempre detto che Taranto non deve esistere, dobbiamo eliminare questa monocultura dell'acciaio e vivere di quelle che sono le nostre risorse, il mare. Allora, quale occasione migliore di questo indirizzo di studi che consente appunto di specializzarsi in un ambito che è legato alla natura di Taranto, il mare? Un altro studente. Sono De Filippis Vittorio, ho deciso di... Anni? 16 anni, faccio il terzo insieme al primo ragazzo intervistato. Ho scelto di fare il nautico per avere maggiori possibilità di entrare in marina militare. Beh, non essere timido, dovrai solcare mari e attraversare terre. Anche tu c'hai qualche legame familiare che ti ha spinto o è una passione nata così? Sia una passione ho anche un paio di zii in marina e quindi vorrei un po' prendere la strada della marina. Dimmi un po', ma gli studi sono pesanti, sono impegnativi, c'è proprio la mule di ore di lavoro, di studio, di mettersi lì. Io poi non ne capisco, io vengo da un altro mondo, dal mondo del classico e degli studi giuridici e poi c'è stato l'amore per il giornalismo che mi ha indirizzato verso questa attività. Però, ripeto, è bello quando si studia, si lavora e si fa questo quasi con passione. Per la domanda di prima dipende dalle persone perché c'è la persona più portata allo studio, la persona meno portata e quindi la pesantezza di quello che si studia viene decisa in base a questo fattore. Beh, dopo aver ascoltato il professor Trovato e questa full immersion con gli studenti, eccoci con il professor Ferdinando Taddio. Parliamo del rapporto con gli studenti, parliamo di materie molto ma molto tecniche, molto ma molto specifiche, non si scherza, qui ci vuole una preparazione mirata, puntuale, precisa, anche perché qui si crea il futuro, si crea una professione. Parliamo però di ragazzi di 15-16 anni. Sì, parliamo di ragazzi di 15-16 anni ma parliamo di ragazzi fortemente motivati perché chi sceglie questo percorso lo fa o per passione o per tradizione fondamentalmente. Anche a maggior ragione essendo a conoscenza del fatto che le materie che si fanno, la navigazione, l'elettronica legata alle attrezzature di bordo, la logistica, la meccanica, sono materie che hanno bisogno di essere seguite con attenzione e poi bisogna portare parallelamente uno studio, un lavoro di ricerca a casa. Ma il fatto che loro si avvicinano a questo percorso con una forte motivazione li facilita Li facilita e facilita soprattutto il lavoro anche da parte di noi docenti che ci troviamo molto spesso più che fare delle lezioni vere e proprie a discutere e a portare i problemi dal punto di vista proprio applicativo pratico non solo quello teorico. E allora professore cerchiamo di parlare anche proprio di quelle attività concrete di quelle iniziative meglio che hanno visto gli studenti protagonisti penso mi pare l'anno scorso al Trofeo del Mare Sì l'anno scorso al Trofeo del Mare anche quest'anno i ragazzi hanno partecipato al Trofeo del Mare e la maggior parte delle attività che riguardano l'ambiente marino e marittimo a Taranto bene o male i nostri ragazzi sono sempre presenti ma un'altra presenza dei ragazzi in ambito marittimo legata al fatto alla possibilità di spendere dei percorsi di alternanza che nel nostro caso vengono mirati alle loro attività specifiche quindi i ragazzi hanno fatto percorsi di diverse ore verso Maricentad quindi conoscendo l'ambiente militare l'ambiente della marina o in cavità nere di porto sono stati anche a far svolgere attività in ambito portuale ma soprattutto perché il percorso è quello di dare ai ragazzi la possibilità di diventare allievi ufficiali siamo riusciti a portarli anche a bordo della Grimaldi dove i ragazzi hanno fatto dei turni assieme al personale di bordo mirato proprio a vedere quali sono le loro capacità e quale magari può essere il livello e la strada più per loro parliamo della crociera di Barcellona la crociera di Barcellona fa parte dell'attività di alternanza quando l'anno scorso l'anno scorso abbiamo portato tutte le classi del nautico quelle dell'area professionale quindi terza quarta e quinta e i ragazzi hanno fatto attività di plancia ma anche attività legate alla gestione degli spazi e delle aree logistiche riguardanti il percorso della tratta tra Civitavecchia e Barcellona quindi in questo percorso molti ragazzi hanno capito quale è la loro attitudine maggiore se è quella organizzativa o quella magari di amministrazione o quella proprio di conduzione prima di congedarci dal professor Taddeo mi incuriosivano questi strumenti del mestiere vedete qui il vento solleva il pannello dell'orientamento scolastico ecco con un linguaggio ovviamente accessibile a chi non è addetto ai lavori sono strumenti per la navigazione e per l'arte marinaresca molto semplici nel senso direi quasi storici questo è un sestante quindi serve a osservare le stelle e determinare la posizione attraverso una serie di osservazioni stellari poi una bussola e qua abbiamo anche un grafometro che come il sestante ci può servire a determinare la posizione facendo delle osservazioni di punti cospicui e quindi in un certo senso aiutare e facilitare la navigazione in generale e ho al mio fianco la professoressa Teresa Pugliese che è responsabile appunto dell'orientamento scolastico per l'Archimede beh e qui abbiamo presso questo stand sito al Molo Sant'Eligio abbiamo avuto modo di parlare dell'indirizzo appunto trasporti e logistica nautico però c'è anche appunto qui una rappresentanza del settore professionale indirizzo moda quindi l'Archimede che davvero offre una varietà di settori di indirizzi di opzioni che davvero hanno una loro valenza anche ai fini lavorativi ecco un'esperienza la sua importante un apporto prezioso perché l'orientamento è come il biglietto da visita per chi si affaccia a eventualmente a scegliere l'Archimede sì infatti diciamo che l'occasione questa sera era proprio quella di portare a conoscenza le famiglie di questa ampia offerta formativa che l'Istituto Archimede ha nel suo piano di formazione in effetti un po' è la serata però gli open day ci permetteranno di far conoscere questi indirizzi ma tutto gennaio ci sarà tempo gennaio certo l'indirizzo moda proprio per il discorso dello sbocco professionale intanto va detto che molto spesso i genitori non sono a conoscenza della presenza di questo indirizzo sul territorio che invece noi vogliamo pubblicizzare perché un articolo del sole 24 ore riportava proprio la richiesta di circa 147 mila tecnici che nei prossimi cinque anni saranno necessari proprio nel settore moda e nell'azienda tessile è un indirizzo sicuramente oltre ad avere una valenza formativa perché comunque permette alla fine del quinquennio di poter accedere a qualsiasi facoltà universitaria in particolare all'Accademia delle Belle Arti permette alle ragazze di poter produrre in maniera creativa quindi sono ragazze che la scelta di questo indirizzo è determinata dalla passione ma anche dalla possibilità di avere degli sbocchi professionali nel settore e allora professoressa non ci resta che chiederle una raccomandazione nel senso lungi da noi allusioni a stimolare a far sì che queste ragazze vincano la ritrossia del microfono e sentiamo perché davvero bello vedere io dico ha tecnicamente dei disegni ma sono dei modelli che poi dovete tradurre in abiti e allora mi suggeriva la terminologia come ti chiami Francesca e allora parliamo di questi io li ho chiamati ripeto impropriamente di senso sono dei modelli che poi dovranno avere la loro concretizzazione in abiti sono dei figurini di abiti creati da noi disegnati che verranno poi passati sul cartamodello ovvero il grafico dell'abito dopodiché verranno posizionati sul tessuto e dal tessuto poi verrà creato il vero e proprio abito bene e come è nata questa passione questa scelta proprio evidentemente era un qualcosa che avevi nel DNA proprio l'indole esattamente dicevo che la moda fa parte di noi certamente ci vuole tanta creatività tanta fantasia come ti balenano così in mente questi modelli allora ovviamente siamo seguiti da dei docenti che loro ci indirizzano su cosa creare su cosa ci danno delle basi da cui poi noi riusciamo a far evolvere dei modelli e nasce poi nascerà l'abito la traduzione diciamo in stoffa esattamente ci siamo spostati di alcune centinaia anzi decine di metri e siamo davanti alla splendida barca dell'Archimede dove ci si esercita dove tutto quello che si trova sui libri e poi si traduce in pratica ho al mio fianco i due uomini di mare li abbiamo di scuola e di mare il professor Taddeo e il professor trovato allora professor Taddeo parliamo di questa barca come si svolgono le esercitazioni deve guardare la telecamera è una bavaria di 15 metri noi la utilizziamo per fare le esercitazioni di arte marinaresca quindi i ragazzi a gruppi accedono all'imbarcazione un po' alla volta iniziano a fare pratica semplicemente qui al porto poi via col tempo iniziano a fare le manovre quindi fanno gli avvicinamenti gli ormeggi fino ad arrivare alla condizione proprio del mezzo anche per tratte di navigazione sotto costa in determinate situazioni impegnative specialmente quando si trova queste condizioni climatiche tipo quelle di oggi però loro lo fanno sempre con molta passione si dedicano anche alla manutenzione la tengono sempre precisa a puntino in tutte le sue parti e questo in un certo senso li lega anche ancora di più al percorso e alle attrezzature e tutte le attività che si svolgono per l'Archimede Professor Trovato di fatto volevo dire che la barca è un laboratorio come tutti i laboratori che sono nelle scuole perché in questa barca si fa sia arti monalesche discipline nautiche elettrotecnica elettronica meccanica e facciamo anche un part di ecologia marina perché sia sulla barca sia su un altro mezzo un gombone che abbiamo abbiamo la possibilità di poter andare non tanto lontano comunque ma al grande ma al piccolo a fare monitoraggio ambientale con delle sonde per avvalutare i parametri ambientali e chimico-fisici dell'acqua che facendolo con una maniera come dire settimanale quando ci riusciamo abbiamo dei dati che possiamo anche offrire al territorio bene una splendida esperienza quella che abbiamo avuto modo di vivere insieme all'Archimede un orientamento scolastico che abbiamo voluto vivere così sul posto e quale occasione migliore qui al Molo Sant'Eligio a scoprire alcuni degli così degli indirizzi dell'Archimede in primis appunto il nautico che dire Taranto è il mare Taranto è l'Archimede e viva l'Archimede e chi davvero sa valorizzare le nostre risorse le preziose risorse di Taranto innanzitutto il mare di Taranto